L'Anci dà il via libera al progetto d'accoglienza dei migranti minorenni che saranno ospitati in casa e famiglia, quote blindata per i comuni che aderiranno. Il questore di Udine Claudio Cracovia ha annunciato che a breve scatterà il controllo di vicinato già sperimentato nella destra a tagliamento, l'annuncio durante la trasmissione elettroshock. In un servizio andato in onda sulla nostra emittente era stato evidenziato lo scarico abusivo soprattutto di pneumatici sulle rive dell'Isonzo a due passi da Gorizia, oggi il sopralluogo della polizia. Arisa ha richiamato a Gorizia centinaia di fan per la sua esibizione nel teatro goriziano, accolta come una diva la vincitrice di due festival di Sanremo e altri riconoscimenti. A due giorni dalla gara contro il Palermo, il friulano Simone Scuffette è pronto ad iniziare la sua prima partita da titolare. L'udinese oggi in amichevole ha battuto il mestre per 5 a 2. Signori e signori buonasera e grazie come sempre per aver scelto l'informazione di Teleferiuli. Lanci approva la diffusione del progetto di accoglienza dei migranti minorenni già sperimentato a Tarvisio, prevede per i comuni l'inserimento diffuso dei giovani in casa e famiglia ma in numero contenuto. In cambio i comuni che attuano questo tipo di accoglienza non possono essere sottoposti a inserimenti di altro tipo di migranti. L'apertura. L'Assemblea del Lanci approva un progetto d'accoglienza dei migranti dedicato ai minori. L'idea, che in parte è già stata attivata da alcuni comuni come Tarvisio, prevede un'accoglienza diffusa dei minori non accompagnati attraverso un accordo con il Ministero dell'Interno. Come ci spiega il Presidente regionale di Anci, Mario Pezzetta, il progetto si sviluppa attraverso la collaborazione degli enti locali. Nei comuni che decidono di accogliere i minori, il numero di persone deve essere sostenibile, vengono costituite le case famiglia per consentire loro di entrare in contatto con la comunità locale. Attraverso un accordo tra Anci, nazionale e viminale, i comuni che attuano questo tipo di accoglienza non possono essere sottoposti da parte dei prefetti o da altre autorità statali a inserimenti di altro tipo di migranti. Il progetto, ideato da Felice Cavallini, è già stato sperimentato a Tarvisio attraverso il sindaco Renato Carl Antoni. Dal punto di vista economico consente ad abbassare sensibilmente i costi d'accoglienza, che adesso è possibile solo in istituti convenzionati, sottolinea Pezzetta spiegando che una parte dei minori tende a ricongiungersi con la famiglia che si trova in Europa, mentre chi rimane può essere inserito nelle nostre comunità e dare un piccolo aiuto nel contrasto alla crisi demografica che investe in modo importante tutta la regione. L'ex caserma Cavarzerani di Udine resta al centro delle polemiche politiche. Il PD udinese è favorevole agli alloggi prefabbricanti al posto delle tende perché solo un'accoglienza dignitosa garantisce la sicurezza. Ma Enrico Leoncini, segretario cittadino e Monica Paviotti, capogruppo, hanno ribadito che Udine ha già fatto la sua parte in termini di accoglienza, supplendo all'inerzia di molti comuni che invece ci sono sistematicamente rifiutati di accogliere. I vertici del partito si sono pronunciati a favore della diaria di 2,5 euro, gestita direttamente dalla prefettura tramite la CRI. I dem però ribadiscono con forza che al fine di garantire un'adeguata accoglienza è fondamentale avere la certezza che alla città sia attribuita esclusivamente la quota di richiedenti asilo, stabilito dal Ministero dell'Interno, inferiore a 400 presenze in totale, e che quindi il numero di presenze sia ulteriormente ridotto. Inoltre, bisogna velocizzare le procedure di riconoscimento dello status di rifugiato, concludono Leoncini e Paviotti. La comunità di Cordenons sta vivendo con incredulità le indagini per omicidio volontario a carico di Cristiano Di Paolo Antonio, il 45enne, che avrebbe deliberatamente provocato l'incidente mortale lungo la Cimpello Sequals. Cordenons sta vivendo con profondo sgomento le indagini legate al tragico incidente lungo la Cimpello Sequals, nel quale lunedì mattina hanno perso la vita Cristiano Di Paolo Antonio e sua moglie Jameer, che viaggiavano sul furgone Fiat Ducato, e Florindo Carrer, 52enne di Cessalto, alla guida del camion. La procura di Pordenone, infatti, ieri, ha aperto un fascicolo a carico del 45enne di Cordenons, che, stando all'ipotesi degli inquirenti, avrebbe deliberatamente lanciato il furgone nella corsia opposta in un drammatico omicidio-suicidio. Siamo in contatto con la procura per tutti gli sviluppi, spiega il sindaco Andrea Delevedove, ma in questo momento il nostro primo pensiero va ai due figli della coppia, di 8 e 14 anni. Al momento i bambini sono stati accolti dal fratello di Cristiano, ma ha già tre figli, quindi la situazione non è semplice. Noi, come amministrazione, ci siamo resi disponibili per dare una mano. Il primo cittadino conferma che Jameer si era rivolta ai servizi sociali per chiedere aiuto. La situazione familiare era difficile, continua Delevedove, ma nessuno poteva immaginare un epilogo simile. So che la donna si era rivolta anche alla questura lunedì mattina, però è nuovamente salita in auto con il marito, che era passato a prenderla in ospedale a Treviso, dove era stata ricoverata in seguito all'incidente del quale era stata vittima, proprio assieme a Cristiano, domenica. E questo, forse, è l'aspetto che fa pensare che nemmeno lei potesse immaginare un gesto così tragico, conclude Delevedove. Sabato scorso una pattuglia della polizia locale di Pordenone, durante un controllo tra via Udine e via Pinali, è affermato un'auto che è risultata priva della certificazione di periodica revisione, scaduta oltre un anno fa. Nel corso di ulteriori controlli, gli agenti si sono accorti che il conducente manifestava atteggiamenti tali da far supporre l'assunzione di alcol al di sopra dei valori consentiti. Condotto al comando, per approfondimenti, al conducente è stata contestata l'ipotesi di reato di guida in stato di Bresa, poiché i valori attestavano un tasso alcolico superiore al doppio del consentito. Inoltre, l'uomo è stato sanzionato per la mancata revisione del mezzo. La costante attività di controllo e la presenza delle pattuglie sulle strade, commenta oggi il comandante Stefano Rossi, sono finalizzate a monitorare il rispetto delle norme di circolazione e aggiunge l'assessore Emanuele Loperfido ad amplificare la percezione dei livelli di sicurezza urbana. A Monta, poche centinaia di euro, il bottino del furto messo a segno all'Eurobar di Maron di Brugnera ha messo a segno la notte scorsa. I ladri, dopo essere penetrati nel locale 250, hanno fatto scattare l'allarme collegato alla centrale operativa dell'Istituto di Vigilanza Italpol. Immediato l'alertamento di un'autopattuglia inviata dalla centrale operativa che ha fatto giungere in via Santa Rossa un mezzo di servizio. Nel sopraluogo, la guardia particolare giurata ha verificato che i malviventi avevano forzato la porta sul retro del locale ed erano entrati nella zona deposito bibite, praticando un foro nella parete di cartongesso del locale per poter accedere all'area dove erano presenti le slot machine del locale. Proprio qui i sensori hanno rilevato la presenza dei ladri grazie alla tempestività di Italpoli i malviventi sono riusciti solo a scardinare due macchine slot e non sono riusciti a prelevare la macchina cambiamonete. La manco pare essere di poche centinaia di euro grazie ai pochi minuti di tempo avuti dai malintenzionati. Una donna di 80 anni questa mattina poco dopo le 11 è stata investita mentre attraversava le strisce pedonali in via Crispi. Una Mazda 6 guidata da una 23enne stava uscendo dal parcheggio di piazza Garibaldi a Udine quando ha travolto l'anziano facendola rovinare a terra. L'ottantenne è stata soccorsa dai sanitari del 118. Un incendio ha distrutto due vetture in un garage a Tolmezzo nella notte alle 23.30. Due squadre, i vigili del fuoco, sono partite dal distaccamento di Tolmezzo e hanno raggiunto l'abitazione in via 4 Novembre chiamati dalla proprietaria che si trovava in casa con la figlia. Nell'autorimessa c'erano cinque automobili tra cui una lancia da cui sarebbero partite le fiamme e che è andata distrutta nell'incendio seriamente danneggiato un altro mezzo parcheggiato a fianco e il sistema elettrico della struttura. Le cause dell'incendio sarebbero accidentali probabilmente generate da un guasto alla lancia e vettura da cui sono partite le fiamme. E sono terminate oggi le operazioni di inertizzazione di alcuni ordigni bellici programmate al poligono militare di Rivoli Bianchi di Tolmezzo e che martedì avevano scatenato malumori e polemiche tra i residenti. I soldati del Centro Tecnico Logistico Interforse di Civitavecchia e del Terzo Regimento Genio Guastatore di Udine hanno disinescato tutti gli ordigni. Per completare le operazioni in sicurezza e senza creare pericoli alla popolazione si è dovuta individuare un'area del diametro di 1.600 metri. Ancora un lutto per il cantautore carnico Gigi Maieron colpito pochi giorni fa dalla prematura scomparsa della figlia l'avvocato Giada Maieron, 43 anni. Ed essere morta la madre, Cecilia, molto conosciuta in Carnia per la sua passione per la musica e quella stessa che ha trasmesso al figlio Gigi e che l'ha vista affiancarlo agli esordi. La storia delle Gigi musicista, infatti, è strettamente legata alla sua famiglia, al rapporto con la madre e con quella musica sempre ascoltata in una casa. Gli operai della Tonuti Volagri, azienda di Remanzaco, hanno manifestato questa mattina davanti ai cancelli della fabbrica. I lavoratori, infatti, sono ancora in attesa di sapere il loro futuro da quando, nel febbraio 2015, l'azienda è stata dichiarata fallita. Il vecchio titolare, infatti, Carlo Tonuti, ha fatto un'offerta al curatore fallimentare per riprendere l'attività, ma ancora nessuna risposta è giunta. I manifestanti hanno deciso anche di inviare una lettera sottoscritta dallo stesso Tonuti al vicepresidente della regione Polzonello e al presidente del Consiglio regionale, Jacop, per chiedere chiarezza sul destino dell'azienda e per scongiurare la definitiva chiusura. Il giorno dopo il nostro servizio, oggi sulle rive dell'Isonzo, c'è stato un sopralluogo da parte della Polizia Locale. Domani già potrebbero arrivare sul posto i tecnici dell'ARPA. Il giorno dopo il nostro servizio, che ha avuto un riscontro superiore ad ogni possibile aspettativa, sono scattati immediatamente i sopralluoghi da parte della Polizia Locale. Un'associazione ambientalista, La Foresta che Avanza, che peraltro ha pubblicato queste foto, aveva già il 6 marzo scorso presentato in comune una segnalazione a tal senso. Una delle tante che però l'amministrazione comunale non aveva mai preso più di tanto in considerazione, altrimenti noi non avremmo mai trovato quello che vi abbiamo mostrato nei telegiornali di ieri. C'è anche da dire che l'amministrazione regionale mette a disposizione ogni anno fondi ai comuni per la rimozione di pneumatici, frigoriferi e quant'altro. Ma però, ci hanno fatto sapere sempre dagli uffici regionali, il comune di Gorizia mai ha presentato domanda per accesso a tali finanziamenti. Nei prossimi giorni speriamo che l'amministrazione comunale di Gorizia esca con una nota stampa ufficiale per avere notizie su come essa intende procedere, così come i cittadini auspicano che ora si vio un'inchiesta interna per appurare le responsabilità di tanti anni di abbandono e soprattutto le ragioni per le quali le segnalazioni pervenute in questi anni da parte dei cittadini al Palazzo Municipale non hanno mai avuto seguito fino a quando in media non se ne sono occupati, rendendo pubblico dominio la cosa. Lunedì sera ci sarà Consiglio Comunale a Gorizia e il Partito Democratico preannuncia battaglia e chiederà a Ettore Romoli di rendicontare la situazione del disastro ambientale sull'Isonzo. Dopo quella di Udine, anche la Polizia Locale di Gorizia si appresta ad entrare a far parte dell'Unione Territoriale di Riferimento ma il processo di fusione è previsto entro il prossimo 1 luglio secondo la lista Autonomia Responsabile Civica per Gorizia appare senza certezze, senza regole ben chiare, precise e delineate. I due esponenti in Consiglio Comunale, Oreti e Turco, presenteranno una mozione con lo scopo di dare mandato al Sindaco Capofila dell'Uti di congelare la fusione della Polizia Locale nell'Unione Territoriale Colio Alto Isontino fino a quando non si avranno le dovute garanzie normative ed economiche. lo scopo è di evitare che l'accorpamento provochi disservizi a discapito dei cittadini e della città di Gorizia. E dopo l'esperienza pordenonese, il controllo di vicinato potrebbe a breve approdare anche in provincia di Udine. Lo ha annunciato ieri sera a Telefriuli il questore di Udine, Claudio Cracovia, ospite della trasmissione elettroshock dedicata al tema della sicurezza. Innanzitutto io vorrei precisare che cosa è il controllo di vicinato che tra l'altro nella vicina provincia di Pordenone stanno sperimentando con successo e che abbiamo comunque in agenda anche qui a Udine di sperimentare. Innanzitutto non ha nulla a che vedere con le cosiddette ronde, ma nemmeno con quella figura dei volontari di sicurezza che era stata comunque normata nel 2008 e nel 2008, ma che non ha preso piede. Comunque è la costituzione di una rete, di una rete di persone, che tra l'altro è una rete di persone che oggi può anche sfruttare quelle che sono le possibilità della tecnologia, gruppi Facebook piuttosto che app, e quindi una rete che ha un riferimento, un riferimento referente che è il contatto con le forze di polizia. Quindi questo realizza una perfetta sinergia, una forma di collaborazione che incide, ripeto, anche sulla percezione di sicurezza di chi vi dà corpo. Quando arriverà a Udine? Guardi, io non amo, perché sennò rischiamo di fare la fine del palasporto, lasciamo perdere. Comunque se ne sta parlando, insomma. Comunque ne stiamo parlando, stiamo cercando tra l'altro di partire, perché è fondamentale avere la disponibilità delle persone, che devono fare. Quindi bisogna andare soprattutto ad interessare quelle persone in quei luoghi che sono luoghi che si prestano a questo tipo di collaborazione. Noi tra l'altro abbiamo anche, e bisogna coniugare, disponibilità con luoghi dove magari c'è una certa delittuosità che noi riusciamo a mappare, perché abbiamo dei sistemi tecnologici che consentono di georeferenziare i reati. Ecco, questo bisogna sapere. I cittadini dei comuni che non hanno aderito alle Uti non potranno godere dei fondi stanziati della regione per interventi in materia di sicurezza. Un tema che è emerso sempre durante questa trasmissione. Elettroshock. I cittadini di serie A e serie B, proprio Marco De Rosto, ha sollevato il problema che è stato ripreso anche dal Lanci in sede di riunione. E purtroppo questa notizia è arrivata all'improvviso l'altra sera, è stata reiterata, diciamo, se si può dire così, questa forma di contribuzione da parte della regione, perché anche questa volta i 4 milioni e mezzo che la giunta regionale ha stanziato saranno destinati esclusivamente a quei comuni che hanno aderito agli unioni. E quindi direi che questo aspetto, soprattutto per i cittadini, dei cittadini di quei comuni che non sono ancora all'interno dell'Unione, è una forma di discriminazione che assolutamente non è tollerabile e soprattutto dovrà, la Anci, dico in questo senso, prendere una posizione netta e cercare in qualche modo di venire incontro alla correzione di una norma che riteniamo anche, secondo noi, illegittima. È stata ultimata la prima tranche di donazioni solidali da parte di Coppaleanza 3.0. I soci prestatori di Copca solamente 600 non hanno delito, ma per tutti loro si tratta di cifre irrisorie. Tutti gli altri 2.600 hanno ricevuto la donazione. Quasi 7 milioni e mezzo di euro. Ecco quanto Coppaleanza 3.0 ha donato ad oltre 2.500 soci prestatori di Copca, ma le donazioni proseguiranno fino al 2018 per arrivare a quota 13 milioni. Oggi possiamo definire e annunciare di aver completato una fase abbastanza turbolenta anche per gli aspetti di carattere burocratico che l'hanno investita e di aver erogato la prima tranche come ci eravamo impegnati a fare. Sono stati 2.602 i soci che hanno aderito a questo gesto volontario che noi abbiamo attivato da quasi totalità dei soci prestatori. C'è stato un interesse, giustamente, da parte dei soci molto importante, quindi siamo soddisfatti e soprattutto siamo soddisfatti di aver ricevuto in queste settimane gesti attestazione di gratitudine da parte di molti di questi soci, anche per iscritto, nelle forme diverse che erano possibili per il gesto dell'attività che abbiamo svolto. 1.200 soci prestatori con crediti inferiori a 2.500 euro hanno ricevuto l'intero rimborso in un'unica soluzione, mentre gli altri hanno visto liquidata la prima delle tre tranche. Coppaleanza si è presa carico di tutte le spese notarie delle donazioni, per un altro milione di euro. Per noi il Veneto-Friuli vuol dire un miliardo di vendita, per noi il Friuli vuol dire 300 milioni di vendite, ma soprattutto vuol dire aver fatto delle filiere, vuol dire aver contribuito molto a creare il progetto Acqua e soprattutto vuol dire grandi soddisfazioni non solo per noi. Abbiamo fatto qualcosa come 50, oltre 50 appuntamenti con le persone, io personalmente ho ricevuto più di 1.400 telefonate e ci siamo adoperati per affrontare il dramma di queste persone, non solo trasferendo solidarietà attiva, cioè del denaro, ma anche per dare conforto a situazioni che veramente erano disastrose e riservando a loro anche delle consulenze utili per poter accedere. Quindi un grande atto di solidarietà. Roma o Trento, Icrea o Cassa Centrale? Le 15 banche di credito cooperativo della regione in queste settimane sono chiamate ad aderire a una capogruppo nazionale. Una delle più grandi, la banca di Manzano, lo ha appena fatto e le motivazioni le spiega direttamente il suo presidente Silvano Zamò. Dopo varie discussioni all'interno del CDA abbiamo deciso di prendere la strada verso Cassa Centrale. Quindi Trento, ma per quale motivo? I motivi sono sicuramente più di uno. Diciamo che ci è sembrata Cassa Centrale più vicina a quelli che sono comunque lo spirito del credito cooperativo, quindi di cooperazione. La seconda è stata sicuramente la possibilità di avere all'interno della regione una banca di prossimità. E la terza, e non per ultima, i dati che ci sono stati rappresentati, soprattutto a livello di Cetuban, è quasi il doppio rispetto a quello dell'altra capogruppo che è Icrea, quindi con una solidità sicuramente maggiore. Quali saranno le conseguenze per i vostri soci da una parte e per risparmiatori e aziende dall'altra? Per quanto riguarda i soci e i clienti direi nessuna, in quanto l'operatività non cambierà. Forse cambierà in modo positivo il fatto che essendo una capogruppo, essendo questa a livello patrimoniale molto importante, avranno una garanzia maggiore riguardo ai risparmi che ci porteranno in banca. E per l'impresa e invece per l'economia, visto che Manzano è molto impegnato su questo fronte? Dovremmo e vorremmo mantenere l'autonomia che abbiamo oggi e quindi il rapporto fra noi e quelle che sono le imprese, quindi tutti riguardo i fidi, non cambierà assolutamente nulla. Anzi, probabilmente avremo degli strumenti maggiori rispetto ad ora. Ente locale, Fondazione Centro Commerciale, un trinomio vincente per il turismo che si traduce in Shuttle. È il primo progetto avviato da Palmanova, Fondazione Aquileia e Outlet Village. Vediamo di cosa prevede. Ente pubblico e privati lavorano insieme per incentivare e sostenere le attività turistiche. Palmanova, Fondazione Aquileia e Outlet Village hanno deciso di unire le forze per promuovere lo sviluppo turistico del territorio. Hanno siglato una convenzione della durata di tre anni che prevede lo sviluppo di strategie e l'organizzazione di eventi di interesse per la collettività. La prima attività che vedrà impegnati il Comune di Palmanova, l'Associazione Palmanova Città da Vivere, Palmanova Outlet Village e la Fondazione Aquileia sarà il Palmanova Shuttle. Si tratta di un'operazione turistico-culturale che proporrà ogni martedì, nei mesi di giugno e luglio, un tour gratuito alla scoperta della città stellata, una sosta di shopping all'outlet di Aiel e una visita ai siti archeologici della città di Aquileia Patrimonio Unesco. Nell'itinerario aquileiese, oltre al porto fluviale e alla Basilica è stata inserita la visita ai resti della dimora Vescovile sul lato nord di Piazza Capitolo. A Palmanova i turisti potranno decidere se visitare liberamente la città o essere accompagnati da una guida turistica messa a disposizione gratuitamente dal Comune. Le mete principali sono Piazza Grande con un osservatorio privilegiato della città, il Duomo e i principali monumenti che vi si affacciano. In programma anche una passeggiata a lungo Borgo Cividale fino alla porta omonima, sede del Museo della Grande Guerra e della Fortezza di Palmanova e una visita alle fortificazioni. L'outlet invece metterà a disposizione dei turisti un menu a prezzo agevolato convenzionato in uno o più ristoranti. Il Palmanova Shuttle ripartirà alle 17.30 per grado. Il Consiglio Provinciale di Udine con una votazione all'unanimità ha approvato un ordine del giorno sottoscritto da tutti i gruppi politici in cui denuncia lo squilibrio della ripartizione dei finanziamenti ministeriali all'Università della Regione. Chiede di riequilibrare l'entità dei finanziamenti statali assegnati all'Università di Udine che sconta una penalizzazione storica rispetto all'Ateneo di Trieste pur avendo un numero maggiore di iscritti. Secondo la provincia, l'assegnazione non deve basarsi sul dato storico ma sui costi standard e sulla valutazione del numero corrente degli studenti iscritti a ogni Ateneo. Pur avendo superato l'Università di Trieste nel numero di iscritti quella di Udine rimane penalizzata con una differenza a suo sfavore di 14 milioni di euro. Grazie ad un progetto ad hoc gli studenti hanno fatto un salto indietro nel tempo. Andiamo a San Giorgio di Nogaro e in particolare a Villa Dora che ora è sede dell'Università Castrense. San Giorgio di Nogaro, Villa Dora. Oggi sede della Biblioteca Comunale ieri dell'Università Castrense dove durante la Prima Guerra Mondiale giovani studenti imparavano nelle retrovie la medicina e la chirurgia. Ma grazie al progetto Storytellers Vite di Uomini e Donne in Anni Terribili le vicende umane di chi visse in prima persona la tragedia della Prima Guerra Mondiale vengono raccontate e tramandate le nuove generazioni. Protagonisti dei lavori odierni sono stati i ragazzi dell'Isis bassa friulana di San Giorgio di Nogaro e di volontari del servizio civile dello stesso paese accompagnati nel loro viaggio nella storia dal politologo Ivan Buttignon dall'esperta Grande Guerra Elisa De Zang e dallo storico Andrea Ferlettic. Una mattinata intensa anche per la Proloco di Fogliano impegnata in prima linea assieme agli altre associazioni nel progetto che ha anche ricevuto il plauso del Presidente del Consiglio regionale Franco Jacop. In una lettera Jacop ha sottolineato l'impegno corale e la forza collaborativa che muovono le nostre comunità nel realizzare progetti che promuovono cultura e conoscenza dei luoghi e dei fatti storici con approcci originali come questo dedicato alla sanità italiana e alle croce rossine durante la Grande Guerra. Raccontare una pagina di storie italiane di questa nostra terra durante la guerra sul fronte dell'Isonzo conclude Jacop è un importante contributo all'approfondimento che la Regione sostiene in questi anni dedicati al centenario del conflitto onorando la memoria e promuovendo la conoscenza. E adesso andiamo a Gorizia e in particolare al Teatro Giuseppe Verdi che a Risa ha infiammato in esclusiva regionale una cantante che ha avuto riscontro della critica ha vinto due festival di Sanremo ma ha conquistato altri premi piuttosto prestigiosi. In minuti di ritardo oltre il canonico quarto d'ora avevano fatto circolare il gioco di parole Dura Risa che tradotto in friulano vuol dire dove è a Risa la quale comparsa alle spalle degli spettatori vestiti alla sposa ha lasciato di stucco il numeroso pubblico accorso al Teatro Verdi di Gorizia. La cantante Ligure che al suo debutto Sanremese ebbe come padrino Lelio Iuttazzi ha dato fondo al suo repertorio chiamando gli spettatori ironicamente Gorizietti ma anche sorpreso per un suo outfit da cantante anni 50 con ritmi anni 2000. Rosalba Pippa vero nome di Arisa è riuscita a far cantare il pubblico goriziano e già questo è un grande merito con i suoi successi passando da sincerità a controvento e il suo Voce Tour sta rendendo giustizia a questa artista che riesce a fondere la canzone pop italiana con i grandi successi internazionali. Sto vivendo con te in i primi dormenti Banff Mountain Film Festival World Tour Italy rassegna cinematografica che porta in Italia i migliori tra i film del Festival del Cinema di Montagna del Canada compie 5 anni e torna a Udine. L'appuntamento è al cinema visionario oggi a partire dalle 20.15 la tappa di Udine in collaborazione con società Alpina Xen Friuli Asu e Ana Udine La serata prevede la proiezione di una serie di emozionanti e coinvolgenti corto e medio metraggi Ed ora vi proponiamo il servizio di Vano Mattiussi con la prima regionale dello spettacolo tenuto da Carlotta Corradi per la regia di Veronica Cruciani interpretata da Alex Cendron e Alessandro Ricceci Teatro Sosta Urbana progetto messo in campo dal comune di Udine assieme ad un collettivo di professionisti di teatro che stanno portando con successo spettacoli di qualità e di alta professionalità prodotte in regione e in Italia tra i quartieri di Udine torna a proporre una nuova stagione primaverile con tre tapper avvicinate e ciascuna di grande fascino In sala Spazio Venezia di Via Stupare Ciaudine cui si riferiscono le immagini è andata in scena la prima regionale di Peli drammaturgia di Carlotta Corradi per la regia di Veronica Cruciani su produzione Quattro Quinte in collaborazione con Off Rome Roma con l'interpretazione di Alex Cendron attore uscito dall'Accademia Nico Pepe e di Alessandro Riceci l'autrice presenta l'evoluzione di un dialogo durante il gioco a Burraco un confronto da prima formale intriso di una confidenza fredda carica di una vita di non detti che prosegue finché non accade qualcosa che interrompe il meccanismo del dialogo borghese per entrare nella dimensione dell'emozione e dell'istinto peli nasce nel 2013 quando Rodolfo Di Gianmarco critico della Repubblica fa incontrare Carlotta Corradi drammaturga e documentarista vincitrice nel 2014 del premio Mario Fratti per la drammaturgia di New York e Veronica Cruciani regista e previo istrio in occasione di una rassegna sulla nuova drammaturgia prossimi appuntamenti in calendario sabato 18 marzo all'auditorium Don Bosco con Little Night Teles e domenica 2 aprile al Circo All'Incirca con una prima nazionale La specialità della regione è un'Europa che cambia questo è il titolo dell'incontro pubblico che si terrà domani venerdì sera alle 18.30 in Sala Iaci in Piazza Libertà Udine ospite d'onore dell'appuntamento organizzato da Autonomia Responsabile il leader di Direzione Italia ed ex ministro degli affari regionali Raffaele Fitto interverranno il consigliere comunale di Autonomia Responsabile Lorenzo Bosetti Giulia Manzan coordinatore regionale di Autonomia Responsabile i consiglieri regionali Giovanni Barillari e Giuseppe Sibau il presidente del gruppo regionale Renzo Tondo e a chiudere l'europarlamentare Raffaele Fitto andiamo con la vignetta di Venturini è terminata 5 a 2 l'amichevole che l'udinese ha disputato oggi contro il mestre sotto lo sguardo attento di Paron Pozzo presente in tribuna nel primo tempo in evidenza il solito Evandro che pare potersi candidare almeno uno spezzone di partita contro il Palermo Palermo occhi puntati però su Simone Scuffet che domenica contro il rosa nero giocherà la sua prima gara da titolare del nuovo Friuli e il nostro portierone pensa anche alla convocazione in under 21 è terminata 5 a 2 l'amichevole che l'udinese ha disputato oggi con il mestre squadra in testa al campionato di lettanti a segno di attaccanti ha aperto le marcature Matos quindi Zapata Terò che ha anche procurato rigore battuto e segnato poi da Depol e Alinovic si è messo in evidenza ancora una volta Evandro che però non ha segnato ma ha fatto vedere la qualità che ha e potrebbe essere che magari uno spezzone di partita contro il Palermo lo vedremo è stata l'occasione anche per dare minutaggio vedere all'opera ancora Scuffet che da domenica scorsa si è guadagnato la maglia da titolare sarà riconfermato contro il rosa nero e a fine amichevole ci ha parlato così in questi giorni comunque mi ha parlato il mister mi ha trasmesso la sua fiducia ai miei confronti e questo sicuramente mi aiuta e testimonia ancora di più il fatto che comunque sto lavorando bene e questo per me è importante il fatto di comunque di avere la riconoscenza del mister del fatto che io sto lavorando e adesso stiamo lavorando per domenica entrare così a freddo a poco dalla fine non è mai semplice infatti l'occasione del gol è stata la prima palla che avrei dovuto toccare con le mani quindi non è stato per niente facile entrare così tutte le volte che si scende in campo è una chance da giocarci come lo sono anche queste partite del giovedì tutte le volte anche tutti gli allenamenti ogni volta che si fa qualcosa bisogna farlo sempre con la testa pensando che sia qualcosa di importante e che ne vada del proprio futuro questo per te è un momento d'oro perché oggi è arrivata anche la convocazione dall'Under 21 quindi una conferma della fiducia che c'è nei tuoi confronti anche in azzurro sì anche questo mi fa molto piacere ovviamente cercherò sempre di dare il massimo sia per l'Udinese che quando sarò chiamato anche dal mistero nazionale senti pensando al futuro un prossimo anno con due friulani del Nerimpang chi è scuffetto titolare? Sarebbe sicuramente sicuramente sarebbe bellissimo poi sono scelte che vanno fatte dalla società dal mister stesso e quindi questo è rimandato sicuramente al periodo estivo io adesso sto pensando a domenica sto concentrando le mie energie su domenica sicuramente a tutti piacerebbe giocare tutti lavoriamo per giocare anche quando non si gioca però bisogna comunque continuare a lavorare bene e dimostrare il proprio valore in ogni modo dagli allenamenti alle amichevoli a quando si ha l'occasione di giocare Udinese-Palermo sfida valida per la decima giornata di ritorno sarà diretta dall'arbitro Fabio Maresca di Napoli sarà assistito dai collaboratori Ranghetti Marrazzo dal quarto uomo di Iorio e dagli addizionali Doveri e Abbattista e questa sera alle 20.45 nuovo appuntamento con Lo sapevo conosci il tuo Friuli Venezia Giulia il gioco a quiz con protagoniste le proloco della nostra regione la nostra Alexis Sabot è già pronta al centro dello studio per alcune anticipazioni a te Alexis Buonasera Daniele telespettatore di Telefriuli sì io sono pronta e tra poco arriveranno anche le proloco in studio continuano le semifinali questa sera tornano in studio la proloco di Butrio e di Dignano e che quindi si sfidano per andare direttamente ai quarti di finale ci sarà anche un momento musicale con la cantante Sara Ciutto una giovane cantante di Latisana e poi ci saranno anche la novità di questa sera è che si balla lo sapevo ci sarà il tango quindi mi raccomando alle 20.45 in diretta vi aspetto anche per i due domandoni state attenti perché dovete telefonare allo 0432573517 per rispondere in maniera esatta ai due domandoni e dare la possibilità alle proloco di vincere 15 punti poi dopo lo sapevo ci sarà un appuntamento importante con Daniele Paroni quindi noi ci vediamo tra poco alle 20.45 adesso vi spiegherò di cosa si tratta Daniele a te grazie a Alexis Sabot eleganza e che eleganza della nostra collega evidentemente la puntata di quelle importanti da non perdere tra l'altro ci avviciniamo alla grande finale di Villa Manin quindi dove appunto terminerà questo primo ciclo di lo sapevo Alexis parlava di una produzione che seguirà appunto lo sapevo 21.45 circa andrà in onda lo speciale realizzato in Umbria nelle zone terremotate con le immagini di Carmine Sicondolfi bene veramente tutto nostro Tommaso Ravo può mandare la sigla di chiusura arrivederci grazie a tutti grazie a tutti